buona serata a tutti cari amici fan e ben ritrovati al sottoscritto nico da lucia in questo video nuovo parliamo invece di calcio femminile coppa italia uomini quarti di finale gara di andata fiorendina milan le rossonere sono andate in vantaggio nella ripresa con salvatore rinaldi ma a noi purtroppo è arrivato all 1 2 terrificante della fiorendina nel giro di 3 4 minuti al 69 con guagne e al 72 con bonetti la gara di ritorno si disputerà a milano il 26 febbraio speriamo bene visto che io sono milanista che altro dire il milan perde ricordando a firenze 2 a 1 rimonda la gara di andata di coppa italia femminile ci vediamo tra un pochino per l'ultimo video della giornata e poi a domani ciao